Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Ecco che andremo avanti con l'avventura di Minato nel gruppo C Ok, andremo avanti Ok, partecipiamo con la nostra registrazione Per prima cosa dobbiamo vedere se sei in grado di affrontare i primi Minati Sottopriremo una prova Va bene, noi lo faremo volentieri Quindi, vuoi affrontare le prove? Certo Molto bene Allora, selezioni partecipanti alla battaglia del quadro avrà iniziato la prova Ok, come nel gruppo D ci farà testare la... la difficoltà Ah, guarda chi c'è Abba nera rosso sale Cosa c'è? Vuoi ci reali? Ok, tra un po' scendo giù a prenderlo Scusate, stavo parlando con mio figlio Ok, allora Poi Logicamente prenderemo il suo figlio Naruto Che è bello? La coppia dei genitori padre e figlio Padre figlio e madre logicamente Torneo... Torneo mondiale dei ninja a grado C Ok Brillantezza arancione Nuova squadra Kakashi Squadra gay Gai E Taka Arancione, vuoi? Allora, innanzitutto faremo prima la madre di Naruto Poi faremo il figlio Naruto Un po' minato Un po' minato Modifica Allora, metteremo questo qua Le cipolline metteremo qua Le cipolline gigante Ancora meglio Dirlo di un occhio mentale Vado bene così Non è che lo utilizzerò comunque Ok Ok La mamma di Naruto grande Sono proprio curioso di usarla Viste che non ho mai utilizzato Azione, azione Ah, sì, lo sappiamo Aiui aiui Ma come ti permetto? Si prendendo una padellata Allora, game, guy, come ti chiami? Grande Grande Una padellata Allora Ah, se c'è qualcosa Ah, no, già l'ho utilizzato Ok Attacca della padellata Allora Oh, come ti permetto? Ah, last shot in un badge Nello Allora Ah, ma spesso vale Ok Ok Oh Oh Quattro 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 via no peccato volo dare una trepadellata va bene adesso prendo Lorenzo aspetta un attimo eh ok 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 turno finale minato contro questi tre ok 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 ah ah ok c'està ok ah Vabbè c'è tipo questo va Vamo, vamo, via Dove sono? Dove sono? Vabbè sono? Vabbè c'è dove sono? Aspetta Vattro 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 Noi Vattro Vattro Stavo a posto. Bene, bene, in grado S logicamente. Modelo Shishisenke. In grado S ottenuta attorno ad un oggetto della sostituzione. Ok, perfetto. Ok, perfetto. No, I get this room and I can't swim. Papa, what do you want? Va bene. Ok. Congratazione, hai superato la prova. Ora hai acquistato il diritto a prendere parte dei preliminari. Bene, c'è un po' di tempo prima dell'inizio dei preliminari. Come nel caso delle prove, puoi usare questo periodo come meglio credi. I preliminari si basano su battaglie fra squadre di tre membri. Scegli con l'attenzione dei tuoi compagni. Quando vuoi iniziare torna a parlarmi. Sto raggiando tra poco. Sto raggiando. Ok, ragazzi. Eh no. No, non solo. Allora andiamo. Allora andiamo. Allora andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Qua ci si va. Un pulamento. Adesso vuoi passare subito alla seconda fase e vediamo. Sto detto. Certo. Molto bene. Selezioni partecipanti della battaglia di squadra. Andremo subito avanti. Mi ha piaciuto la coppia di prima, sai? Mi ha piaciuto così tanto che lo rifaccio. Questo è super bello. Ah, adesso puoi scegliere questo qua. Oh no. Questo qua dai. Ci siamo andati. No, non si. Sì, è finito, è finito! Non c'è nessuno! Vabbè ragazzi, qui sappiamo che la stessa storia quindi saltiamo pure la fase Ecco ma nel grado D, non cambia nulla Cosa succede? Sì, è finito! NINCAI BUTOI Sì, per fare il potere di rinforzare prima di rinforzare il rinforzare di rinforzare il rinforzare il rinforzare non ci si tratta di capire Ah, ho fatto il rinforzare La stessa storia è la prima cosa di rinforzare il rinforzare il rinforzare A presto, il rinforzare il rinforzare il rinforzare Aspettare il rinforzare il rinforzare il rinforzare A presto, il rinforzare il rinforzare il rinforzare il rinforzare A presto, il rinforzare il rinforzare il rinforzare Non c'est pas accrogné Oh ma chi è vero? Oh ma chi è vero? Qua Ma non si tocca la donna, lo sai? Si è poco maleducato In battaglia torniamo della ninja, sfera tecnica suprema Nelle battaglie a quattro partizioni possono apparire sfera tecnica suprema Prende una sfera tecnica suprema e quindi fa premere Ah bello Ah che ruolo di barco Prende una Mamma mia che difficile Vieni premuto, ah si Oh risveglio Ma ah grande Mamma mia ah senti che ho proprio distruzione ma bellissimo ragazzi mamma mia la scuola si fa molto più interessante la mama di naruto mamma mia è diventata della regina la strega quindi si arrabbia si arrabbia le donne sono sempre stesse ok dai mamma mia ok fuori uno è un peccato aspetta molto andiamo e becchiamo questo qua boom ok ah ci hanno detto già qualcuno vai vai eccolo qua a tre bene ora sui cazzi bellissimo bellissimo incontro moceleate Lorenzo? adesso te lo vado a prendere ok ragazzi adesso vedremo il scontro combinato con questi tre questo è questo esatto questo questo o questo Lorenzo tutto è stato il scontro combinato con gli scontri di e poi ci sono i scontri di che è un scontri di è un scontri di Ok Andiamo Beccato Si aspetta la lente Non si aspetta la lente si ok ho vinto dai ma bene così si abbiamo vinto Lorenzo abbiamo vinto esatto adesso vediamo il gioco ok grado S è meritato grazie grazie perfetto cos'è questo? cos'è quello? quello? è una guida è guida ok i saluti sono sempre stessi non cambia niente non siete disponibili che bel nasino a patatina andiamo giù dai prendi i calzini metti i calzini perché l'hai tolto metti i calzini adesso ti do una mano io ok con congratulazione per il supermento per dei preliminari ora puoi accedere alla battaglia principale sapevo che ce l'avessi fatta bene c'è ancora posto tempo prima della battaglia principale adesso te lo metto come ho già detto puoi usare questo periodo come io credi ok i primi analisi basano sulle battaglie fra squadre di 3 metri sceglie con attenzione i compagni ok grazie grazie bene ragazzi abbiamo terminato il seguente video quindi al prossimamente ci sarà ancora più difficile la sfida bene ragazzi il video il video si concorda qui spero che vi sia piaciuto e niente nel frattempo commentate condividete con i nostri amici e mettete un bel mi piace ciao ragazzi e alla prossima